Ravioli di zucca, gorgonzola e noci I ravioli di zucca, gorgonzola e noci sono un primo piatto ricco di sfumature, perfetto per una cena speciale. La zucca, dolce e cremosa, si sposa alla perfezione con il gusto deciso del gorgonzola e delle noci, regalando un connubio di sapori unico. Preparare questa ricetta è anche un ottimo modo per scaldare un freddo giorno di febbraio. Per preparare i ravioli di zucca, gorgonzola e noci, occorrono i seguenti ingredienti. 200 g di farina 00 2 uova 200 g di zucca 50 g di gorgonzola 50 g di noci 1 cipolla 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva Sale QB Pepe QB Burro QB Per prima cosa, preparate la pasta per i ravioli. Mescolate la farina con le uova e un pizzico di sale fino a ottenere un impasto omogeneo e compatto. Se risultasse troppo secco, aggiungete un cucchiaio d'acqua. Una volta ottenuto l'impasto, stendetelo con un matterello su una spianatoia infarinata. Tagliate la sfoglia in tanti quadrati, non troppo grandi. Mondate e tagliate la zucca a dadini. In una padella antiaderente, fate appassire la cipolla in due cucchiai d'olio. Una volta appassita, aggiungete la zucca e fatela cuocere per circa 10 minuti. Aggiustate di sale e pepe, quindi spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. In una ciotola, amalgamate la zucca, il gorgonzola e le noci tritate. Ponete un cucchiaino di ripieno all'interno di ogni quadrato di pasta e richiudete i ravioli, sigillandoli bene con le dita. Ponete i ravioli ben distanziati su una teglia ricoperta di carta da forno, quindi spennellateli con un goccio di olio. Cuocete i ravioli di zucca, gorgonzola e noci in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 15-20 minuti. Una volta pronti, serviteli caldi con una spolverata di burro e una macinata di pepe nero.